E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog! Oggi volevo portarvi un bel video vlog diverso dal solito dove vi parlerò di alcune cose e però prima, con calma, partiamo con ordine. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che ho iniziato a fare attività fisica. Questa è la data di inizio e mi sento veramente molto diversa. Cioè, mi sento un'altra persona con l'attività fisica perché innanzitutto il cervello adesso si sta allenando, i muscoli si stanno allenando, il mio corpo sta respirando, la mia pelle, tutto quanto. Sto bevendo tantissimo, un litro e mezzo al giorno, mi alleno sei volte su sette alla settimana, la domenica giorno di riposo dove appunto posso sgarrare e permettermi qualcosa in più che magari durante la settimana non mangio. E io non ho bisogno di chissà che cosa, ma tutti noi abbiamo bisogno dell'attività fisica. Detemi una persona che non ha bisogno dell'attività fisica, tutti, tutti. Dalla persona più secca, più bella fisicamente. Le persone che mi dicono, ma tu Letta non hai bisogno di attività fisica? Ma come? Ma c'è un fisico? Ma sei secca? Ma non è vero, assolutamente. Prima cosa, io non mi piaccio fisicamente, non mi piace il mio fisico. Seconda cosa, voglio perdere chili, ho raggiunto un peso che non avevo mai raggiunto, ma tutta colpa mia. Cioè, mi do le colpe, anche perché non ho fatto niente per rimediare, ho rimediato solamente in questo periodo, durante questa quarantena. E grazie a questa quarantena, quindi è una cosa positiva, che io ho ripreso a fare attività fisica. Sennò io non l'avrei mai fatto, ve lo giuro ragazzi, non l'avrei mai fatto. Io ritornavo da scuola, studiavo, 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 mangiavo, dormivo, sempre la stessa routine così per due anni. Cioè, poi durante l'anno ho fatto qualcosa, sono andata a correre alla pista, ma niente di che, cioè non è stata una cosa, ecco, continua. Sapete che io amo tantissimo il Mac, un'altra cosa che amo è la Red Bull, e adesso che appunto non la sto mangiando da, e bevendo da tantissimi giorni, cioè il Mac, per ragazzi sono passati 70 giorni che non mangio Mac, secondo me, quando lo riandrò a mangiare, sarà molto più gustoso, cioè me lo gusterò di più, e ovviamente non lo mangerò in quel modo costante, cioè io veramente riuscivo a mangiare il Mac anche tre volte a settimana, cosa sbagliatissima. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa mia ripresa all'attività fisica, se la state facendo anche voi, ma io vorrei spronarvi il più possibile a farla. Tra un po' mi preparo, sono alle 3,48, verso 4,4 e mezza mi alleno, comunque sono stata anche qui sul computer, perché stavo su Amazon, e intanto ascoltavo un po' di musica, perché volevo farmi un bel paio di scarpe da ginnastica, ecco insomma, siccome ho ripreso a fare attività fisica, perché sto utilizzando le Sauconi, allora all'inizio ho utilizzato le Stan Smith, ma le Stan Smith hanno la suola piatta scivolosissima, e quindi per determinati esercizi sono molto scomode. è solo che tutte le scarpe che ho trovato su Amazon mi fanno letteralmente schifo. Però volevo farmi una Nike, cioè non le ho mai comprate, proprio perché la Nike insomma non mi fa impazzire, però ecco, volevo proprio non spenderci tantissimo. ragazzi, è finita anche questo allenamento, ho aggiornato spalle e braccia e addominali. Bene amici, allora ho preparato la merenda mia sorella, che ha già mangiato, wow, no perché io ho pulito tutto quanto, e lei ha mangiato fragole e kiwi, io invece adesso ho pesche, banane e fragole con le mandorle. Buon appetito! Abbiamo appena finito di vedere la terza stagione di Riverdale, commento a caldo, più che altro non commento, reazione è stata più o meno questa. Non ho ben capito, però comunque ve ne parlo domani. Buonanotte! Allora, è stata veramente molto carina come serie tv, è una serie tv che vi consiglio, devo dire che all'inizio della terza stagione era un po' così, un po' titubante, non è che mi piacesse così tanto, però è stata molto carina, e dall'ultimo episodio non si è ben capito tantissimo, infatti la quarta stagione da Mou, che è uscita in America, ed è e sarà disponibile l'11 marzo su Premium Stories, però li stanno caricando piano piano tutti quanti gli episodi su streaming, ovviamente in inglese però con i sottotitoli in italiano, quindi io penso che quando li caricheranno un bel po' di episodi me li vedrò tutti insieme a mia sorella. Comunque, buongiorno buongiorno a tutti, io sono qui che sto rifacendo il mio letto, e ho già fatto colazione, è vero, non vi ho fatto dire la parazione, ho fatto colazione con latte, caffè, succo d'arancia, e cinque fette biscottate con la Nutella. Ragazzi ho appena finito di fare merenda, ho fatto merenda con una pesca, molto piccola, e una fetta di pancarre con la Nutella. Ciao ragazzi, buongiorno, eccomi qua, a questo buongiorno dal bagno, ho appena finito di vestirmi, e lavarmi, e niente, adesso sono pronta per andare in mia direzione. Comunque, oggi ho tre video lezioni, e finisco all'una, niente, c'è un sole che spacca le pietre, e non posso prendermelo. Questa è la faccia di Redizia, che ho finito tutte quante le video lezioni, è l'una, ho finito anche francese, e adesso si va a papà. Ragazzi, eccomi, mi sono catapultata direttamente all'allenamento, comunque è pomeriggio, sono le 5 e mezza, ok, ho quasi finito il mio allenamento. Oggi ho allenato gambe, braccia, e addome. Ho fatto merenda con la pesca, mezza banana, tre mandorle, e due gallette, queste qua, biologiche mais, che sono veramente, veramente buone. Ieri c'era un sole che spaccava le pietre, oggi è la bioggia, oggi voglio prendermi il sole, oggi non posso. Comunque, adesso vado in video lezioni, che tra due minuti inizia. Allora, amici, finito con inglese, adesso economia, e poi basta, ho finito. Io ho finito di pranzare, e mi è arrivato, cioè mi sono già arrivate le scarpe, incredibile. Adesso ve lo faccio vedere subito. Allora, stavolta ho preso un paio di scarpe Nike, prettamente diciamo, per allenarmi tutto quanto, quando si potrà riuscire a correre e quant'altro. Ed eccole qua. Mi piacciono veramente tantissimo, le ho provate subito, comodissime, 42, ufficiale, basta, porto 42. Fantastiche, veramente molto comode, ve le consiglio. Amici, sono pronta per quest'altro giorno di allenamento. Oggi, allenerò, braccia e spalle, faccio cardio, e quindi, insomma, mi occupo di questa parte, anche perché ieri ho fatto gambe, mi sono spaccata. Ok, eccomi qua, ho finito di farmi la doccia, e sono bella fresca, e ora, merenda. Allora, questa è la seconda galletta, poi mangio le mandorle, e poi ho mangiato mezza banana. Buongiorno amici, letto fatto, buongiorno a tutti, oggi ho solamente una video lezione, dalle 10 alle 11, alimentazione, che bello. Quindi devo andare a fare colazione, e a lavarmi. Mi raccomando, la mattina il latte va preso, ecco, dico, non tutti i giorni, magari qualche volta fatevi il tè, freddo, teccato, non lo so, però il latte va preso perché contiene calcio, e vi dà la forza per affrontare la giornata, contiene anche molte vitamine, quindi prendete il latte, è importante. Ho girato il pacchetto, però comunque è un pacchetto di Wish, e adesso lo apro subito. Quello qui l'ho scartato, sono i laccetti che avevo ordinato, insomma, sono molto carini, adesso ve li faccio vedere bene. Eccoli l'accetti coordinato, su Wish ovviamente, sono 10 pezzi, questi qui sono i colori, sono molto carini, e li ho pagati 1 euro. Anche oggi, oggi alleno le gambe. Beh, diciamo che non sono sudata, ho finito l'allenamento, sono stanchissima, veramente sto un po' letto. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, stamattina ho fatto colazione con quei cereali fantastici, infatti, mi sono messa anche la sveglia alle 9 e mezza, siccome stamattina appunto è festa, non ci sono le vite lezioni, e quant'altro, quindi ho deciso di fare una bella colazione con calma, ma è tutto quanto. Solo quelli io. Ecco qua, dopo pranzo, un bel tè verde. Oggi abbiamo finito presto, perché, io me lello mia sorella, sono le 5 e mezza, non la faccio sconvolta, perché oggi abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, abbiamo fatto gli esercizi guardando un video su YouTube, quindi seguendo questa ragazza che faceva i video. Abbiamo fatto questo esercizio qua, workout per la parte inferiore del corpo, eccomi qua, e questa è la merenda di oggi, abbiamo fragole, semi di chia, cereali e due mandorle. Lo so, un video vlog non può finire così, però ho cercato di prendere tutte quante queste giornate di inizio allenamento, e ho cercato di fare questo video vlog carino, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, e noi ci vediamo nel prossimo video vlog. Un bacione.